Ciao pregoline! Allora, nuovo video, però questa volta è un video shopping. Allora, dato che ci sono i saldi e questo shopping praticamente mi è arrivato ieri, ieri sera, volevo farvi vedere quello che ho acquistato e gli sconti, perché se questo video lo metto a settembre, poi va a finire che troppo in là il video e poi voi non avete, diciamo, non potete andare sul sito per acquistare, dato che ci sono gli sconti. Scusatemi, sto già impappinando, non so cosa sto dicendo, iniziamo bene questo video. Allora, prima di iniziare però, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video di shopping, seguirmi su Instagram così rimanete di più aggiornati su tutto quello che faccio ogni giorno. Per cui, dopo aver fatto queste cose, e ovviamente lasciatemi anche un commentino qua sotto, se anche voi avete acquistato da questo sito. Allora, questo sito l'ho scoperto da Betty82, che è una ragazza che seguo, ovviamente su YouTube. Lei mi ha fatto scoprire questo sito dove vendono scarpe a 5 euro, e io sono rimasta appena ho visto il suo video, perché anche lei ha fatto il video dello shopping dove ha acquistato. Per cui, se mai, vi lascio giù il link del suo canale, così andate a vedere anche il suo video che ha fatto lei. Non è una sponsorizzazione, non è una collaborazione. Ho visto il video che ha fatto lei e giustamente mi ha colpito molto sia le scarpe che il prezzo. Allora ho detto, acquisto anch'io, infatti è il primo acquisto che faccio dal sito Diva, che praticamente si trova a Napoli. Tutte le scarpe sono 5 euro, c'è quelli da 20, c'è quelli da 10, dipende il modello, dipende ovviamente le scarpe, in poche parole. Io ho acquistato solo scarpe da 5 euro, massimo una da 10 e una da 15. La spedizione, calcolate che ci vogliono almeno 3 giorni, perché io ho fatto l'ordine domenica, lunedì me l'hanno praticamente concluso e martedì me l'hanno spedito, mi è arrivato praticamente mercoledì, per cui più o meno 3 giorni. Allora, l'unico problema che io ho avuto è che ho contattato tramite mail due volte, ovviamente, il sito, perché ho avuto problemi sul fatto che mi hanno spedito 5 paia di scarpe invece di 6. A me manca un paio di scarpe, che è quello che costa di più, cioè per modo di dire, costa di più per modo di dire, ma in senso, praticamente costa 15 euro il paio di scarpe che non mi è arrivato. Infatti, meno male che ho controllato l'ordine, meno male che ho aperto il pacco e ho controllato se c'erano tutte le scarpe. Alla fine ho visto che non c'erano tutte le scarpe perché manca praticamente il paio di scarpe di 15 euro. Non ho capito il motivo perché non l'hanno messo dentro, o si sono dimenticati, o il numero mancava, o non era esaurito la scarpa, non lo so. Non mi hanno avvisato sul fatto che non mi è arrivato questo paio di scarpe. Li ho contattati tramite mail, ma non mi rispondono. Due volte li ho contattati tramite mail, ma non ho avuto risposta. Adesso li ho contattati di nuovo tramite Instagram, perché ho trovato anche su Instagram il sito, in poche parole, il profilo e l'ho contattati anche su Instagram. Calcolate che è passato ormai quasi due ore da quando mi ho mandato il messaggio e non mi hanno ancora risposto. Non lo so, non so qual è stato il problema, perché non mi hanno avvisato su questa cosa e ci sono un po' rimasta così così, anche perché o mi devono rimborsare i 15 euro, oppure mi devono rimandare il paio di scarpe che io ho ordinato, sinceramente. Però non ho avuto notizie. Io chiedo se, se Betty sta guardando questo video, io chiedo se anche lei ha avuto questi problemi ieri sera, che praticamente, cioè ci sta che ieri sera è arrivato il pacco e giustamente mi sono accorta ieri sera. Però è da stamattina, ormai sono le due e ancora non ho ricevuto risposta. Sì, cioè, il video io lo faccio lo stesso e vi faccio vedere lo stesso le paia che mi sono arrivate, le scarpe che mi sono arrivate. Ovviamente mi è arrivato in questo sacchetto con scritto Diva, il sito, e vi faccio vedere tutte le scarpe, vi dico il prezzo e ve le faccio vedere anche indossate, per cui vi lascio qui delle clip e ve le faccio vedere indossate, perché così almeno vi faccio vedere come stanno. Allora, iniziamo dal primo paio di scarpe. Allora, diciamo che la confezione non è che, cioè, sono un pochettino rotte, però vabbè. Allora, questo è un beige che il numero è 39, questo lo pagate 10 euro. Questo è stato l'unico paio che lo pagate praticamente poco, 10 euro. Allora, le scarpe sono queste, praticamente sono beige, sono fatte così. Allora, la qualità sembra ottima. Ovviamente li testerò, vedrò se durano, se davvero vale la pena spendere 5 euro o 10 euro per comprare su questo sito. Li testerò e vi farò sapere, perché dal tatto e da vedere le scarpe sembra che è un'ottima qualità. Per cui ho preso sia questi qua, fatti così, modello fatto così, piatto. Li faccio vedere tutte e due. Sono così. Adesso ve le metto nella clip, così li vedete meglio. E sì, è un beige perché mi piaceva il colore e poi li volevo provare. Queste costavano 10 euro. Poi ho preso sempre due paia uguali, però colori diversi, perché mi piacevano tanto. E allora, il numero è sempre quello, 39. Questa è la scatola, la stessa. Vi faccio vedere che ho preso anche rosa, fatta così. E sono molto carine, eh. Allora, poi sono, diciamo, con la loro confezione, impacchettate bene. E direi che sono molto carine, perché mi piacciono. Ho preso sia questo colore, beige, rosa e poi ho preso anche il blu. Allora, questi qua però erano in promozione. Invece di 10 euro, l'ho pagate 5 euro l'uno. Per cui, faccio vedere anche il blu. Il blu è bello, mi piace. Poi è tipo a pelle. Ed è fatto così, il blu. L'ho preso tutte e tre, perché ho detto, almeno così li abbino ai vestiti tutti diversi. E dato che mi piacevano, le ho presi tutte e tre. E queste sono state le tre paia uguali che ho preso. Poi vi faccio vedere l'altro paia di scarpe, se non mi cade niente. Che è questo. Cambia, ovviamente, la confezione. Questo qui sono sandali beige. I sandali beige, praticamente, 5 euro. Sono impacchettati bene con... Ovviamente l'ho provato, ho provato una scarpa, perché se no, ciao. Ho preso questa con un po' di tacco. Come vedete. Questi qui sono belli morbidi, perché hanno la suola praticamente bella bombata e diciamo che sono comode, perché lo provate. Hanno i fiori, sono tutti beige. E dato che mi piacevano, le volevo provare. E ho preso questi qua. Sono sempre tutti 39, non vi faccio vedere l'altro, perché tanto è inutile. Comunque calcolate che più o meno il prezzo è sui 5-10 euro. L'unico paio di scarpe che costavano di più, che era 15 euro, non mi sono arrivate. Vabbè, poi l'ultimo paio, questi qui sono rosa, sempre 39, però questi mi sembrano 10 euro. Perché poi c'è scritto 10, ma io ho speso 50 euro perché ho pagato 5 euro di spedizione. Per cui non riesco a capire perché, qui c'è scritto 10, perché forse costavano 10 qua, ma in realtà le ho pagate 5. Anche queste sono fatte così, però queste sono diverse. Sono leggermente un po' altine perché ho preso il tacco di 8 centimetri. Infatti sono così. Sono rosa, stranamente non ho mai avuto scarpe rosa. E alla fine le ho prese. Sembrano... Allora, sono morbidi. E sono carine da vederli. Comode, perché le ho anche queste provate. L'unica cosa è che la suola dietro sembra buona. Ma se voi guardate questa, non so perché, è come se è usata la scarpa. Perché mi è arrivata così. Per cui, se vedete, la scarpa è praticamente usata. Tutta nera, non so che cos'è questo. Anche perché il sacchettino mi è arrivato rotto. E non so se queste paia di scarpe sono state usate e poi restituite. E me le hanno, diciamo, vendute. Perché poi c'è scritto questo, con lo scotch. E poi c'è un numero qua. Che dentro a questi non c'è, in poche parole. Per cui non so se queste scarpe le hanno utilizzate, le hanno usate. Perché... Non lo so. Mi viene un dubbio. Però, vabbè, chi se ne frega, tanto io le uso lo stesso. Perché tanto mi vanno e le uso lo stesso. Ovviamente, io ve lo dico. Perché se per caso succede anche a voi, sapete che è successo anche a me. Allora, non posso dirvi se vi consiglio questo sito o no. Perché sinceramente devo provare le scarpe, vedere se sono ottime. Dato che il mio primo acquisto ho avuto... Cioè... E il problema che ho avuto non è ancora, diciamo... Non è ancora stato risolto del sesto paio di scarpe che mi devono arrivare. Non lo so, vi farò sapere... O a settembre, oppure... Non lo so. Comunque, questo è quello che ho acquistato. Se qualcuno ha acquistato da questo sito e ha avuto problemi su questo sito, fatemelo sapere qui sotto. Perché, non lo so, non riesco a capire perché non mi contattano. Non riesco a capire perché non mi danno una spiegazione sul fatto del paio di scarpe che non mi è arrivato. Non lo so. Comunque, niente. Il sito è molto bello, le scarpe sono molto belle. Ripeto, prima li testo e li provo. Poi vediamo se risolvo il problema dell'altro paio di scarpe, se mi arriverà. E poi vi darò una recensione su questo sito. Se è affidabile, se è bello, se va bene, se ne vale la pena spendere 5 euro di scarpe. Vi farò sapere perché così non posso dare una mia recensione di questo sito se, giustamente, non so bene la qualità. Se veramente, usando tante volte le scarpe, sia buona. Tutto qua. Per cui, niente. Fatemi sapere se avete anche voi acquistato queste scarpe. e vi aggiornerò sul prossimo video. Non so cosa dirvi perché io questo video lo volevo fare lo stesso, anche se non ho ricevuto il sesto paio di scarpe. E vedremo, vi farò sapere. Per cui, niente. Detto questo, grazie per aver visto il video. Io vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Lasciarmi un like, un commentino qua sotto che li leggo tutti. E seguitemi su Instagram che lì ci sono molti più aggiornamenti su quello che combino. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!